Numerosi i temi ambientali di spiccato interesse e protagonisti del bilancio tracciato dalla sezione provinciale di Rimini dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la prevenzione dell'ambiente dell'Emilia Romagna, nell'anno che si conclude. Dalla politica ambientale ai cambiamenti climatici, dalla qualità delle acque di balneazione dell'aria ai campi elettromagnetici e l'attività di vigilanza ambientale, che solo nel 2013 in provincia di Rimini è stata intensa con oltre 534 ispezioni. Abbiamo trovato quasi un 20% in più di irregolarità, sia di tipo amministrativo che penale. Abbiamo segnalato alla magistratura 38 notizie di reato, sostanzialmente, e abbiamo segnalato alla provincia e al comune 11 casi in cui sono necessari dei provvedimenti amministrativi. Per quanto riguarda la salute delle nostre acque, diversi sono i campionamenti che vengono effettuati con risultati non di poco conto. La qualità delle acque riminesi e delle acque emiliano-romagnoliche, negli ultimi tre anni, dal 2010 al 2012, la qualità ambientale delle acque di mare è stata eccellente. Quest'anno abbiamo avuto un unico declassamento che riguarda l'acqua marecchia sud. I divieti che sono applicati in occasione degli episodi piovosi sono appiegati come conseguenza delle misure di gestione che i comuni adottano prima della stagione balneare, proprio a tutela della salute, per prevenire eventuali danni alla salute. Con i recenti dispositivi legislativi introdotti, inoltre, si ha una semplificazione amministrativa che mette in pratica una vera e propria sburocratizzazione. Dal primo di ottobre tutte le aziende che ristrutturano dal punto di vista idile l'edificio non devono più chiedere un parere preventivo all'azienda sanitaria e ad ARPA.